Desiderate, ragazzi? Avete del pane bianco? Sì. Io prendo del pane bianco tostato, per favore. Ci vuoi burro e marmellata sul toast, tesoro? No, signora, liscio. Avete del pollo fritto? Il pollo fritto più buono dell'Illinois. Mi porti quattro polli fritti e una coca. Petty di pollo o cosce di pollo? Quattro polli fritti e una coca. E del pane bianco tostato, liscio. Ci vuole qualcosa da bere col pane? No, signora. Una coca. Arriva subito. Ah, Matt, di là ci sono due tizi vestiti da impresari delle pompe funebri. Da che cosa? Devono essere sbirri della CIA o roba del genere. Che cosa hanno ordinato? Quello altro vuole pane bianco tostato liscio, con niente sopra. Helmut. E quell'altro ha ordinato la bellezza di quattro polli fritti. Figurati, è una coca. E Jack, Christie Blues Brothers. Ciao, Jack. Matt. Ciao, Helmut. Allora, come si stava in galera? Ah, un cesso. Facevano un'anatra all'arancia schifosa. Non può essere peggio della Chateaubriand che fanno al carcere di Terraut. O della Bechamel del penitenziario della Contea di Cucco. Le cucine federali sono in ribasso. Matt, io ed Helmut vogliamo rimettere insieme la banda. Ci servi tu e Blulu. Oh, amico. Non dire certe cose qua dentro. La mia vecchia mi fa secco. Signora deve capire che questo è un affare più importante di qualunque problema familiare che possiate avere. Matt, di che diavolo state parlando? Non ti arrabbiare, tesoro. Non cominciare col tesoro che t'ho capito. Io ti dico che in giro per il mondo non ci vai più e non suonerai più in quei localacci da quattro soldi. Tu vivi con me adesso. E non ricomincerai a fare il vagabondo con quei pezzenti dei tuoi amici bianchi. Ma pupa, questi sono Jack ed Helmut, i Blues Brothers. I Blues Brothers? Che stronzo. Ma se ti devono ancora un mucchio di soldi? Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra? Vede, siamo in missione per conto di Dio. Non voglio bestemmie qui dentro, eh? Non si bestemmia qui dentro! Questo è il mio uomo, questo è il mio ristorante e voi ora ve ne uscite dritti dritti da dove siete entrati senza il tuo toast di pane bianco liscio, senza i tuoi quattro fottuti polli fritti e senza il mio Matt Guitar Murphy! Adesso senti me, io ti amo. Ma io sono l'uomo e tu la donna, capito? E le decisioni sulla mia vita le prendo io. È meglio che ci pensi bene a quello che dici e che pensi bene alle conseguenze delle tue azioni. No, chiudi il becco, per favore! You better think, think, thing I've always tried to do to me, yeah Think, think, think that your mind will hurt yourself No, chiudi il becco!